Ben ritrovati in studio, Giovanni, torneremo tra un attimo a tutte le altre notizie attraverso la lettura dei giornali, ma ora non possiamo non aprire una finestra, essendo lunedì, sulle notizie collegate allo sport, al calcio in particolare, andando a collegarci con il nostro Michele Mitarotondo. Ciao Michele, buongiorno. Buongiorno Alessandra, buongiorno Giovanni, è stato ovviamente un weekend calcistico molto importante, partiamo proprio dalla Serie A, dal Lecce che ha affrontato a San Siro il campione d'Italia del Milan, non è andata bene ai Salentini che hanno perso 2-0 decisiva la doppietta di Leao, bisogna però dire anche che il Lecce nel primo tempo è andato vicinissimo al vantaggio, c'è stato un palo davvero clamoroso di Bandà e dunque i Salentini poi sono stati travolti dal ciclone Leao, prima al quarantesimo di testa per il vantaggio dei rossoneri, e poi nella ripresa dopo un'azione personale per il definitivo 2-0. Lecce che in questo momento si trova in una zona pericolosa di classifica perché il Verona in precedenza aveva vinto contro il Bologna per 2-1 e dunque proprio il Verona che in zona terzo-ultimo in classifica, in zona retrocessione, ha accorciato sulla formazione di Marco Baroni, ora a meno 2, allo stesso modo lo Spezia ha pareggiato 1-1, dunque classifica che in coda del campionato di Serie A si accorcia notevolmente quando mancano poche giornate al termine, si è disputata la trentunesima giornata e dunque ci sono altre sette partite da giocare, con appunto Lecce a 28, Spezia a 27, Verona a 26 e dunque la situazione per la squadra di Baroni si è decisamente complicata, sarà importantissimo vincere la prossima partita che i Salentini disputeranno in casa contro l'Udinese per allungare un po' sul terzo-ultimo posto e allontanarsi quindi dalla zona retrocessione. Facciamo un salto di categoria, passiamo alla Serie C perché ieri si è disputata proprio l'ultima giornata di campionato e il Potenza ha battuto il Catanzaro che già da diverse giornate ha conquistato la promozione in Serie B, il Potenza si è imposto per 3-2 e grazie a questo risultato i Lucani si sono qualificati per i play-off. Vediamo allora il servizio. Cala il sipario sulla stagione regolare di Serie C e nel Gironi C la classifica dice che il Potenza e il Picerno si sfideranno nel primo appuntamento del play-off per aver chiuso al nono posto il rosso-blu di Mr. Raffaele e al sesto i Melandrini. Nell'ultimo turno infatti il Picerno è stato fermato sul 3-0 in casa contro il Pescara, anche se la gara più ostica sulla cartera, quella del Potenza che ospitava i dominatori del girone, il Catanzaro schiercia sassi di Mr. Vivarini, che si è giudicato la vittoria del Gironi C dopo una indiscutibile e indomabile cavalcata che li ha portati alla matematica promozione in Serie B con ben 5 giornate in anticipo. Partita subito da ritmi altissimi e con numerose occasioni da rete, si parte al quarto con un contropiede del Potenza con Talia che, lanciato da Murano, si invola solo verso la porta ma perde il passo incredibilmente solo contro Sala a calciafori. Dodicesimo vantaggio del Potenza meritatissimo con Murano, la conclusione di Volpe dal limite subisce una deviazione di testa da Gatti, la sfera assume una traiettoria che Sala con un gran colpo di Reni, è bravo a deviare sulla traversa, sul rimbalzo è però lesto Murano che di testa sigla il gol del vantaggio dei patroni di casa. Ventissimo si rivede in avanti il Catanzaro con Iemmello che prova la conclusione al volo, la palla potente finisce alta, al trentaseisimo arriva il raddoppio del Potenza ancora con Murano, inizia l'azione Volpe che, conquistata la sfera al centro campo, si invola verso l'aria, giunto al limite la consegna sul lato corto a Caturano che la passa in mezzo per Murano. Il numero 27 la controlla benissimo piazzandosi con il corpo verso la porta, da lì la conclusione a fil di palo per il doppio vantaggio dei rosso-blu. Al minuto 50 il Catanzaro però costruisce un'ottima azione che porta a Cazzeris a servire la palla attesa il raso terra nel cuore dell'area di rigore per Iemmello che a due passi dalla porta sigla il 2-1, per il capocannoniere del girone la rete numero 28 in stagione e guaiando così De Florio nel record di reti della categoria. Minuto 59 nel miglior momento del Catanzaro arriva il 3-1 del Potenza, la rete la sigla del Pinto e Caturano che serve la palla in aria per la corrente numero 6 dei padroni di casa che è bravissimo nello stretto a passare tra due avversari con un dribbling e mettere la palla alle spalle di Sala. Gara ricca di reti, infatti a 67esimo accorcia nuovamente le distanze il Catanzaro con Sunas che dal limite prende la mira e mette la palla con una precisione chirurgica alle spalle di Gasparini per il provvisorio 3-2. Finisce così la stagione regolamentare del campionato di Serie C Giro NEC, ma adesso occhi puntati sui play-off e sul derby tutto Lucano tra Potenza e Picerno. Abbiamo visto i gol con i quali il Potenza ha sconfitto il Catanzaro per 3-2, gol decisivi come dicevamo per la qualificazione dei Lucani ai play-off, play-off che si giocheranno già la settimana prossima il 30 aprile, domenica 30 aprile, il primo turno giocherà il Cerignola, l'audace Cerignola che si era già qualificato ai play-off in precedenza contro la Juve Stabia, poi giocherà il Picerno sesso in classifica proprio contro il Potenza, un derby lucano, quindi il 30 aprile una partita secca dentro o fuori tra Picerno e Potenza e poi ci sarà Monopoli Latina, questo il 30 aprile. Il Foggia invece che è arrivato quarto alla fine del campionato e che in giornata ha battuto 4-0 la Turris giocherà invece con il secondo turno, si parla sempre di play-off del girone, contro il 3 maggio, contro la vincente di Monopoli Latina, partita del primo turno, quindi continuiamo a parlare di Serie C perché non ce l'ha fatta la Virtus Francavilla a qualificarsi ha perso infatti la formazione, l'imperiale non ha perso contro la Viterbese per 2-1, i gol per la Virtus Francavilla, un autorete di Riggio che ha pareggiato praticamente il gol messo a segno da Polidori al 64esimo da parte della Viterbese, quindi 64esimo vantaggio della Viterbese con Polidori, poi il pareggio dopo un bel tiro di Cisco, la deviazione di Riggio, pareggio della Virtus e quindi il gol decisivo è arrivato per la Viterbese al 77esimo da parte di Marotta, sconfitta come detto per la Virtus Francavilla decisiva che impedisce alla formazione di Brindisina di qualificarsi ai playoff e sconfitta purtroppo decisiva anche per la Fidelisandria contro il Latina per 2-1, Fidelisandria che dunque retrocede e quindi retrocessa in Serie D all'ultimo posto a pari punti con la Viterbese, Viterbese che comunque dovrà aspettare prima di disputare i playoff o meno perché in questo momento è retrocessa ma deve aspettare una decisione su un ricorso, su una penalizzazione, mentre rivediamo i gol di Latina Fidelisandria, Fidelisandria che tra l'altro era passata in vantaggio con Ventola poi ci sono stati i gol del Latina con Ganza e Carissoni, quindi Fidelisandria che saluta il campionato di Serie C come detto e retrocede in D. Passiamo ora alla Serie B invece, passiamo ora al Bari che ha vinto a Pisa 2-1, seconda vittoria consecutiva in trasferta per i Biancorossi, vittoria molto importante, vediamo il rigore di Antenucci al novantesimo che ha deciso la sfida, comunque partita molto importante, vittoria molto importante per il Bari, Bari che ha iniziato benissimo la gara subito all'attacco sul campo del Pisa e con una bella azione di contropiede il Chedira ha procurato l'espulsione a Noji che ha commesso fallo da ultimo uomo, questo già al tredicesimo, poi è stato però il Pisa a passare in vantaggio al diciottesimo su calcio di rigore messo a segno da Torregrossa, nel frattempo vediamo le immagini del fallo di Noji su Chedira nella prima grande occasione creata dal Bari e l'espulsione da parte del giocatore del Pisa, l'errore di Mazzotta qui con la palla recuperata da Torregrossa, poi il fallo di Mazzotta e il rigore e il vantaggio del Pisa, Bari che però non si è demoralizzato, ha continuato ad attaccare e soprattutto ha messo in mostra un grande Morachioli, suo l'assist per l'1-1 da parte di Esposito al trentasettesimo e sua anche la giocata decisiva poi che ha determinato il rigore messo a segno da Antenucci al novantesimo. Bari che è già qualificato ai playoff ma che continua comunque a inseguire la promozione diretta perché il Genoa rimane a 6 punti di vantaggio, Genoa che ha battuto quindi in giornata, meglio ha battuto sabato il Cittadella fuori casa per 1-0, poi c'è stato il pareggio del Frosinone con il Sud Tirol per 0-0 e dunque la classifica di Serie B, il discorso promozione diretta per la Serie B resta aperto per i Biancorossi a meno 6 dal Genoa e a meno 8 dal Frosinone con un calendario che poi vedrà i Biancorossi impegnati il 1 maggio in casa contro il Cittadella, il Genoa invece sempre lunedì 1 maggio impegnato fuori casa contro il Sud Tirol e il Frosinone che giocherà in casa contro la Regina. Comunque un campionato davvero straordinario per il Bari che ora, perso Foloruncio anche per questa partita per infortunio, sta trovando davvero una risorsa in più con questo ragazzo alla sinistra, ex Renate Morachioli che davvero rappresenta una sorpresa per il Bari e sicuramente un valore aggiunto in questo finale di campionato, la formazione di Mignani non sembra accontentarsi dei playoff, vuole mettere pressione agli avversari fino alla fine insomma e se la sta giocando davvero fino alla fine per quanto riguarda la promozione diretta in Serie A. Alessandra non mi rimane che ricordare l'appuntamento con Che Calcio, oggi ci sarà Max Sisto alle ore 14 per parlare in particolare del Bari perché insomma qui l'area nel capologo pugliese è abbastanza frizzante e c'è molto molto entusiasmo per questa rincorsa alla Serie A.